Saltato a Roma il tavolo tecnico di lavoro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, convocato dallo stesso ente per discutere del percorso del gasdotto sul Mona Foligno, di fronte all'uscita della delegazione abruzzese guidata dal vicepresidente Giovanni Lolli, il viceministro Claudio De Vincenti ha chiuso la riunione, rinviando così la decisione alla conferenza di servizi. Sì, la riunione è andata malissimo, si è interrotta praticamente quasi all'inizio, quando Snam ha cominciato a illustrare, presentando le ragioni, almeno così ci è sembrato di capire le premesse per le quali, avendo già scartato l'ipotesi a mare, si predisponeva a scartare anche qualunque altro eventuale spostamento della centrale. Adesso io questo lo presumo perché non siamo arrivati fino al punto di ascoltare gli argomenti fino in fondo, ma insomma i presupposti sembravano quelli e gli argomenti che ha messo in campo Snam in una prima slide effettivamente contenevano una prima frase, una prima considerazione abbastanza sorprendenti, ecco perché definire sul Mona come una specie di territorio marginale sul quale in fondo fare una centrale non è una cosa così grave e questo diciamo, il Presidente è proprio scattato ed è scattato perché noi sappiamo tutti cosa ha detto e cosa pensa. Non tocca a Snam qualificare i territori, i territori li qualifichiamo noi che ci abitiamo. È la regione che fa le scelte, queste regioni devono essere condivise, queste scelte nostre dei territori e della regione devono essere condivise, non si possono accettare una semplice descrizione di luoghi così importanti riportati in una mera slide che nulla ha a che fare con quello che i cittadini, soprattutto le istituzioni, intendono realizzare su quel territorio.